Consideriamo inconcepibile applicare il limo su queste zone di montagna quando invece il governo permette di non pagare invece il limo su quelle zone di mare. È quella l'attività produttiva che deve far sì di non essere tassata perché se no lo sviluppo, come facciamo? Ancora una volta andiamo a tartassare chi lavora e invece esentiamo quelli che lavorano meno. Questa cosa per noi è inconcepibile e è per quello che stiamo battagliando.